Domenica 15 luglio dalle 7 alle 20 si vota per eleggere il consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Possono votare tutti i cittadini extracomunitari e gli apolidi iscritti nella lista elettorale del Comune. Per votare l'elettore deve esibire il certificato elettorale e un documento di identità valido rilasciato da una pubblica amministrazione. Il certificato può essere richiesto presso le municipalità o all'ufficio anagrafe elettorale seconda traversa privata via dell'Epomeo. Le operazioni di voto si svolgono nella sezione elettorale, una per ogni municipalità, indicata sul certificato elettorale. A ciascun elettore è consegnata una scheda con i nomi dei candidati alla carica di consigliere aggiunto. Il voto si esprime tracciando un segno sul nome o sulla casella del candidato prescelto. Ogni elettore può votare per un solo candidato.